Oggi stiamo andando da Dario Montoro, che è l'azienda Montoro Erbe che si trova a Sarno. E' colui che ci dà pomodoro san mazzano, dei pomodoro baby, una buona parte delle verdure che usiamo quotidianamente. Torni indietro con la mente, nel senso che fortunatamente nelle nostre zone esiste ancora il condadino che sta lì a curarsi l'orto con maniagalità. Carissimo, non sai, posso, che si dici? Qui siamo nel regno delle erbe aromatiche, diciamo erbe aromatiche, fiori eduli. Questi sono tutti i fiori che Agostino utilizza quando andiamo ad impiattare soprattutto i dessert, quindi menta, i vari tipi di menta. A noi servirebbe un po' di erbe misticanze tipo basilico misto, origano fresco, perché mettiamo in carta la rivisitazione della carne a pizzaiola. E quindi mi serve quell'odore fresco di origano. Tu c'hai qualcosa? Ci puoi far vedere qualcosa? Come no, ci sta qualcosa? Mi ricordo quando nel periodo di, soprattutto di Pasqua, i miei genitori mi portavano a fare le scampagnate sul Matesi, allora si andava a cercare l'orio. E' spettacolare. E' un ricordo di infanzia di mia mamma che in questi periodi mi faceva sempre la stracciatella di uovo e piselli, no? E quindi abbiamo fatto questo piatto con i due piselli, con un orzo mantecato e con dei piselli in osmosi, torlo marinato, grattugiato. E sta andando tantissimo. Mi piace molto, perché questa è la saggionalità. Un mese di piselli e poi basta toglierlo dal menù perché non esistono più. Un mese di piselli e poi basta toglierlo dal menù perché non esistono più, perché non esistono più, perché non esistono più, perché non esistono più.